Nella puntata precedente abbiamo visto la meraviglia del messaggio del Vangelo e come questo ha a che fare con la nostra fisiologia. In questo stupendo messaggio del Vangelo c'è una cosa che è la base del messaggio stesso, cioè l'amore. Oggi parleremo della scienza dell'amore. Vediamo cosa dicono alcune persone famose sull'amore e vediamo qui una fotografia che realmente quando la guardiamo ci strappa un sospiro. Che cosa bellissima! Molte volte pensiamo che l'amore riguardi solo la coppia. È vero che Dio ha creato la coppia e lì possiamo vedere definitivamente come tutto ha avuto inizio e lo vedremo in questo programma come tutto è cominciato. L'amore è importante per la specie umana. Guardate cosa dice qui Anthony Walsh. Si tratta di un dottore che ha conseguito il suo dottorato in biologia del comportamento. Ha scritto molti libri su ciò che lega il nostro comportamento alla nostra fisiologia e biologia. È incredibile! E guardate cosa dice. L'amore è la più nobile, la più potente, la più bella e significativa esperienza dell'umano. Per esso nasciamo, con esso ci sosteniamo. L'amore circonda il bambino, porta allegria al giovane, dà sicurezza all'adulto e conforta l'anziano. L'amore cura il malato, solleva il caduto, conforta il tormentato, ispira il compositore, il pittore e il poeta. Che cosa bellissima! È una persona che sa moltissimo su ciò che significa l'amore e sulla biologia umana. Paul Tilch dice, «L'amore è la legge più importante dell'universo». Eric Fromm, «L'amore è la forza che tiene unita alla specie umana, il clan, la famiglia, la società. Senza amore l'umanità non esisterebbe neanche un giorno. L'amore è la speranza per i problemi dell'umanità». Alcune di queste persone sono atei. Non credono in Dio. Loro hanno studiato ciò che significa l'amore nell'umano. E quando si è trasformato in scienza, si sono resi conto dell'importanza dell'essenza del Vangelo, dell'essenza di Dio stesso. Dio sa come siamo. Sa di cosa abbiamo bisogno. È per questo che dalla nascita dell'essere umano ha provveduto affinché esistesse l'amore. Vediamo, quando la madre rimane incinta nel momento della fertilità, diversi ormoni iniziano ad attivarsi. Qui abbiamo il progesterone e l'estradiolo. Ce ne sono in grandi quantità e provocano grandi cambiamenti nella donna. Una donna incinta non è più la stessa. Inizia a cambiare. Non so se ve ne siete accorti. Generalmente nelle ragazze giovani si nota di più. non appena rimangono incinte. Sono diverse. Sono diversissime. Il loro comportamento è un altro. Il modo di vedere le cose è un altro. Ed è per via delle sostanze chimiche che Dio ha messo nella donna, le quali iniziano a prepararla a essere mamma. Dal momento del concepimento, Dio provvede affinché il bimbo sia protetto. Ho lavorato per molti anni in una clinica di maternità ed era stupendo vedere queste donne svilupparsi con la maternità. Incredibile! Nel momento in cui si preparavano a provare dolore, molte donne iniziavano a pulire con il loro pancione enorme. Iniziavano a pulire, a tirare fuori tutte le cose. E sono gli ormoni interni che spingono la mamma a preparare il nido per il suo piccolino. È una cosa innata. È una cosa istintiva. E al momento del parto possiamo vedere che ci sono altri due ormoni preziosi. La prolattina e l'ossitocina. Questo è davvero meraviglioso. L'ossitocina è un ormone definito dagli scienziati, l'ormone dell'amore. Al momento del parto, la donna ha bisogno di ossitocina e i ginecologi sapranno che se non c'è ossitocina, l'utero non si contrae e la madre potrebbe morire. Sapete cosa fa sviluppare l'ossitocina? Il pianto del bambino. Il pianto del bambino produce ossitocina nella madre. Quando quella madre sta allattando, produce ossitocina. Ma questa ossitocina, che inizia a svilupparsi in grandi quantità nella madre, è l'ormone responsabile del legame d'amore che unirà la madre e il figlio. Per questo la chiamano l'ormone dell'amore. E quel legame d'amore è il legame più forte della terra. L'amore di una madre verso un figlio è ciò che più si avvicina all'amore di Dio. Poiché esisti, ti amo. Non ci sono condizioni. No, sono legami così forti. E con quel bambino, al momento della nascita, c'è già un rapporto di amore importantissimo. Perché il bambino sta facendo sì che si sviluppi l'ossitocina nella madre e quell'ossitocina salva la vita della madre. E quell'ossitocina che si produce fa sì che si crei questo legame forte d'amore con il bambino. Dio sapeva questo. Sapeva l'importanza dell'amore fin dal momento del concepimento. E ha provveduto in tal senso affinché quel bambino sia protetto dal primo momento e continui. Guardate l'amore di questa madre con il bambino. Il tocco della madre. La voce della madre. La carezza della madre. Lei che è allatta al suo bimbo. Sta creando quel legame così bello. Sta aiutando quel bambino a svilupparsi. È una forma armoniosa per quel legame d'amore. I bambini hanno bisogno di quell'amore per il loro sviluppo mentale. Per il loro sviluppo fisico. Per il loro sviluppo sociale. Hanno bisogno di tale amore. È per questo che Dio ha provveduto quella mamma. Affinché sia l'inizio della crescita di questo nuovo umano. Questo bambino ha bisogno anche dell'amore del padre. È molto interessante. Sono stati effettuati degli studi che dimostrano che gli uomini diventano responsabili e maturano in maniera incredibile quando hanno figli. Si sviluppa di più il loro testosterone. Ora, il testosterone è ciò che rende uomini i maschi. Parlano da uomini. Hanno l'aspetto da uomini. A loro piacciono le donne. Questo è il testosterone. Ma il testosterone è una cosa molto interessante. Da caratteristiche molto interessanti, questo testosterone fa sì che l'uomo senta la necessità di prendersi cura, di proteggere, di poter provvedere. Diventa un uomo per proteggere. Dio ha messo questa caratteristica nella natura dell'uomo. E il bambino ha bisogno di quella protezione. Ha bisogno che il padre provveda. Ha bisogno di quella voce da uomo per crescere armoniosamente. E così il bambino cresce. E possiamo vedere quel bambino con l'amore dei genitori. Possiamo vederlo con la famiglia, il padre, la madre, i nonni. E Dio ha provveduto a questo. Perché sa che per la crescita e lo sviluppo di quell'umano è importante l'amore che riceve quel bambino. Possiamo vedere lì la famiglia. Possiamo vedere che ha bisogno dell'amore dei genitori. Quel bambino ha bisogno di vedere che i suoi genitori si amano. Ha bisogno di sentire l'amore di Dio nella famiglia. E ovviamente ha bisogno dell'amore della madre e del padre. E' così che inizia a svilupparsi quel bambino. Inizia a crescere. Dio ha fatto un piano meraviglioso per l'umano. Stupendo. Un piano perfetto. Immaginate dal concepimento, da quando è nel ventre della madre, la mamma che si occupa di proteggere il bambino. Affinché possa nascere in una famiglia in cui i genitori si amano e lo amano. E' così che si sviluppa. Finché non arriva il momento in cui i piccoli sono pronti per il volo. E quando iniziano a volare, questi piccoli iniziano a guardare fuori, fuori dal nido. Iniziano a vedere che ci sono persone che attirano la loro attenzione. Ed è la prima tappa fuori dal nido. E' nella natura dei giovani guardare cosa c'è fuori. Si rendono conto che esiste l'altro sesso. Iniziano ad avere amici che cominciano ad attrarre la loro attenzione. E questa è la prima tappa. Poi arriva la seconda tappa. Questa seconda tappa è quando Cupido lancia una freccia. E' molto interessante. è stato studiato che questa chimica, quella di Cupido, non è altro che fisiologia nel corpo umano. Sapevate che una persona in particolare richiama la mia attenzione attraverso l'odore? L'odore. E non è l'odore del profumo. E' un odore che percepiamo inconsciamente, istintivamente, che è legato alla genetica. È legato alla genetica, al DNA di quella persona. Non ci adentriamo, non voglio complicare le cose. Però questa chimica c'è quando arriva Cupido che scocca la freccia. A volte diciamo, ai 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 ai, Cupido ci vede male, perché non sa cosa ha visto. A volte diciamo, questo Cupido è impazzito, perché non so cosa gli sia saltato in mente. Non avete pensato così qualche volta? È così? No? Ma è così. Questa è la seconda tappa. In questa seconda tappa, una persona in particolare attira la nostra attenzione. inizia la terza tappa, dove questa Cupietta, che ha deciso di essere qualcosa di speciale l'uno per l'altra, inizia il suo processo. E questo processo dovrebbe essere bello. È qui. È qui che si sviluppa un'amicizia. Poi si fanno insieme attività piacevoli. E così si potrà realmente creare un legame indistruttibile per poter arrivare a essere uniti, una vita intera. E questo è il pieno di Dio, meraviglioso. Questo è il pieno di Dio, perfetto. È il pieno di Dio previsto per noi. Una forma meravigliosa di svilupparci. Purtroppo siamo una specie danneggiata. Quando nasciamo, nasciamo in famiglie che non sono perfette. Cresciamo in un mondo che non è perfetto. E sicuramente le persone che sono cresciute in questo mondo imperfetto arrivano alla prima tappa, che dovrebbe essere solo per iniziare a guardare, e invece iniziano a viverla prematuramente, in maniera non corretta. E la prima tappa non va bene. Poi iniziano la seconda tappa e si scelgono persone che non dovrebbero scegliere. E così si va avanti. Poi è la terza tappa e questa tappa dovrebbe servire per conoscerci, per creare legami di amicizia durevoli per una vita intera. E non avviene così. I matrimoni che esistono al giorno d'oggi sono così nocivi tra le persone, tra persone molto danneggiate. E decisamente ciò che non è iniziato bene non può terminare bene e non potremmo finire così. Quante poche coppie arrivano a questa età amandosi, amandosi, necessitando l'uno dell'altra. I divorzi sono più che mai di moda. Com'è facile, com'è facile separarsi. Perché già si arriva danneggiati da tutto questo processo. Sono stati fatti grandi studi sull'importanza dell'amore. E possiamo vedere, per esempio qui, che è stato fatto un esperimento sulle scimmiette. Sapete che le scimmie accudiscono i loro piccoli per molto tempo. E l'esperimento che hanno fatto consisteva nel prendere una scimmietta e portarla via da sua madre. E avendola separata dalla madre, dopo un po' di tempo, l'hanno rimessa con il resto delle scimmie. Quella scimmia era diventata violenta, aggressiva, tanto che non riusciva a restare con le altre. Sapete una cosa? Al momento di avere il suo cucciolo, potrebbe persino ucciderlo. Arriva ad andare contro la natura stessa della scimmia. E nelle scimmie la mamma è abituata ad accudire il suo piccolo. E anche se il suo piccolo muore per un certo tempo, continua ad accudirlo. Se una scimmietta non è stata accudita con l'amore della sua mamma, finirà per avere caratteristiche che non avrebbe mai avuto. È stato fatto un esperimento. Non era un esperimento in verità, non è iniziato come esperimento. Sono arrivati a scoprire una cosa in una forma inaspettata. C'era in Germania un orfanotrofio dopo la seconda guerra mondiale. E alcuni tedeschi, alcuni tedeschi dissero, noi siamo la razza perfetta. Quindi prendiamo dei bambini, li mettiamo in questo orfanotrofio con il meglio, che offre la tecnologia del momento, la migliore tecnologia. Il miglior cibo bilanciato, tutti i medici, ogni cosa di cui avessero bisogno, si definivano la razza perfetta e con la perfezione della tecnologia avrebbero così realizzato una razza superiore. Spostiamoci un po'. C'era un orfanotrofio in Italia, un piccolo orfanotrofio povero, che veniva gestito da donne devote, cristiane, volontarie. Così si stavano sviluppando questi due orfanotrofi. E qualcuno pensò, vediamo la differenza tra questi due orfanotrofi. Uno con tutta la tecnologia e tutto il meglio esistente al momento e l'altro senza niente. Fu una sorpresa incredibile per gli studiosi del tempo, quando iniziarono a vedere la differenza. L'orfanotrofio italiano riportava una minore mortalità dei bambini, un maggior quoziente intellettivo, una maggiore capacità di relazionarsi socialmente e meno malattie. Non capivano cosa stesse succedendo. Come? In quell'orfanotrofio molte volte non avevano neanche da mangiare. Cosa stava succedendo? Non avevano nulla di tecnologico. Si resero conto che la cosa importante era l'amore. E così iniziarono degli studi approfonditi e fecero anche un esperimento con le scimmiette, togliendo una piccola scimmietta dalla sua mamma e mettendo al suo posto una scimmia di ferro con un biberon. E una mamma scimmia di materiale imbottito. La scimmietta preferiva morire di fame e starsene al caldo con quella mammina imbottita. Noi umani abbiamo bisogno di amore. E Dio lo sapeva. Oggi vengono effettuati grandi studi sulle malattie che si verificano per mancanza d'amore. Malattie nell'infanzia, danno nella crescita e nello sviluppo fisico, problemi cardiovascolari, danni al sistema immunitario, problemi mentali, depressione, nevrosi. Tutto questo perché manca o è mancato l'amore. Questo mondo è pieno di persone che non sono cresciute o non sono nate con questo amore. Per questo siamo umani con caratteristiche non da umani. A volte io sento gente che dice, sono umano per questo sbaglio. Un momento, non confondiamoci. Gli umani sono diversi dagli animali. Noi umani siamo coloro che pensano o coloro che dovrebbero pensare. Noi umani siamo quelli che sentono. Noi umani siamo quelli che hanno la capacità di amare, di perdonare, di avere cura, di servire. Questo è un umano. Questo è l'umano che Dio ha creato. Giovanni, il discepolo Giovanni, era chiamato il discepolo del tuono. Immaginatevi essere chiamati l'uomo del tuono. Se si vedono le caratteristiche, se si studiano le sue caratteristiche, era aggressivo, era litigioso, era competitivo. Aveva molte caratteristiche terribili. Ora, se studiassimo Giovanni e potessimo vedere ciò che era successo nella sua genetica, ciò che era successo nella sua infanzia, decisamente quell'uomo aveva avuto molti problemi che l'avevano portato a essere il figlio del tuono. Perché non siamo fatti per essere figli del tuono. Dio non ha creato un figlio del tuono. Ma sono successe cose nella sua vita che lo hanno portato a essere così. Ma quell'uomo amò Gesù. Amò Gesù. E quando afferrò la mano di Gesù, la sua vita iniziò a cambiare. Iniziò a cambiare tanto che arrivò a essere chiamato il discepolo amato. Quel vecchietto amato che non sapevano come fare per ucciderlo. Sapete, la storia narra che gli chiesero di ritrattare ciò che andava insegnando e lui si rifiutò. Fecero prendere un veleno a uno schiavo di fronte a lui. Gli dissero, guarda cosa ti succederà. Ritratta. E lui non lo fece. Così gli fecero prendere il veleno. Sapete che successe? La storia narra che lo schiavo risuscitò e a lui non successe nulla. Lo mesero in una pentola di olio bollente e non gli successe nulla. Non sapevano cosa fare con lui e lo relegarono su un'isola finché lì morisse. fu lì che scrisse l'Apocalisse. Lì vide, lì vide la gloria, la gloria di Dio. E andando via da quell'isola, scrisse la prima, la seconda e la terza lettera di Giovanni dove ci sono poche pagine. Ma in quelle poche pagine ripete costantemente la parola amore. Sono lettere con delle parole di miele. Il figlio del tuono. Il figlio del tuono convertito nel simbolo dell'amore. Solamente perché afferrò la fonte dell'amore. E quella fonte dell'amore fece sì che si sanassero le sue ferite. Siamo una razza caduta. Siamo danneggiati. Non siamo nati in famiglie perfette. Nessuno di noi. Non abbiamo vissuto in un mondo perfetto. Il piano di Dio era meraviglioso per noi. Ma non viviamo in un mondo perfetto. Per questo abbiamo bisogno di essere ubbidienti al messaggio del Vangelo. essere ubbidienti al messaggio di salute di cui parleremo più avanti. E se davvero ubbidiamo a questi due messaggi, se afferriamo quella fonte d'amore, l'amore di Dio saremo guariti. Dobbiamo afferrare la mano di Dio. Dobbiamo essere ubbidienti. Noi cristiani, una volta per tutte, dobbiamo ubbidire ed essere ciò che dobbiamo essere. Dio ci ha dato un cervello meraviglioso, quel potere di scelta, anche quando siamo danneggiati, anche quando siamo feriti, quando non siamo ciò che dovremmo essere per via delle cose che sono successe. Possiamo essere restaurati. Le nostre famiglie hanno bisogno di madri restaurate che non portino avanti la catena. hanno bisogno di padri restaurati. Quante madri non idonee devono esserci perché sono danneggiate, ma non siamo ubbidienti. Per questo la catena continua e ferisce i nostri figli. Le nostre famiglie hanno bisogno di gente restaurata. La nostra chiesa ha bisogno di persone restaurate, restaurate da quell'amore di Dio di cui ha bisogno la nostra fisiologia, di cui ha bisogno il nostro cervello per trasformarsi. E abbiamo bisogno di obbedire a quei messaggi. Dio ha fatto un piano meraviglioso e sapeva che non sarebbe stato facile. Sapeva che quel piano sarebbe stato rovinato. Sapeva che saremmo stati danneggiati. Sapeva ciò che il peccato avrebbe provocato, provocato in noi. Per questo ci ha dato i Suoi due messaggi. Ed è per questo che ci offre il Suo amore. È per questo che dobbiamo afferrare la Sua mano e dobbiamo essere ubbidienti una volta per tutte. E se siamo ubbidienti, prendendo la decisione e comandando la nostra vita, dicendo questo lo farò perché lo farò, poi afferrando la mano dell'altro comandante, ha inizio la guarigione. E possiamo riuscire davvero ad essere restaurati. Dio sapeva che questo piano meraviglioso e perfetto sarebbe stato danneggiato dal peccato. Per questo ha provveduto al restauro. Per questo c'è la possibilità di essere trasformata alla Sua immagine. È in te il volerlo fare. Hai il potere di scelta. Hai i messaggi di Dio. Hai la capacità di farlo e hai il Suo aiuto e la Sua mano. Sta a te rompere le catene per portare una benedizione nella tua famiglia, nella tua Chiesa, nella tua comunità. Rompere le catene per portare una benedizione. Nella prossima puntata parleremo del meraviglioso messaggio della salute come parte di questo processo di restauro. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!